Qual è il risultato dell'incontro del tavolo regionale di ieri? Abbiamo conosciuto il liquidatore che seguirà la vicenda della Ginori, l'impressione è stata di un uomo con capacità, ci ha fatto una buona impressione, perché ha parlato di una volontà di mantenere l'attività produttiva e di cercare di salvarla Ginori trovando un imprenditore che sia interessato non al marchio ma all'attività produttiva e quindi al proseguo delle attività della Ginori.